Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io speravo in qualcosa di più, però ragazzi... Allora ritira il premio Pino... Buon Matteo... Alzala Matteo, alzala... Un applauso agli Hooligans... Mi sono dimenticato di ringraziare le brigate dell'Atalanta... Il terzo premio... Che è stato vinto allora dal Team Biso... Ritira il premio Christian... Che vuole dire qualcosa... Gli cedo il microfono... Io con la coppa qua la regalo il suo fratello... Un ringraziamento a tutti i giocatori del Biso Team... Gli secondi classificati purtroppo... Purtroppo per me... Mi dispiace dirlo... La provariano... Ritira il premio del capitano... Complimenti... Prima classificata... La squadra della Barianese... Ritira il premio... L'allenatore... Ancora un ringraziamento particolare... Alla Barianese... Consegna e segnaline... Cosa mai vista... Io direi che sotto la doccia... Ci può andare tranquillamente... Oh... 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 Selfie for... Selfie for anche... Ega di più... Ringrazio ancora tutti per la partecipazione... E niente... La serata prosegue ancora con i cuori infranti... Vedo che suonano bene... Anzi... Ecco... E... E... Vero... Vaarenelo! Capitaine... Cosa ma sucre delputo... Direnaregnaregnaregnaregisconsin... Grazie a tutti.